Avvocato Dattolo, perché ha lanciato questa petizione giudici senza giustizia? Allora, come magistrato onorario, insieme a tutti i miei colleghi e insieme anche alla collega Germinara, la nostra rappresentante al tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia, per tutelare i diritti costituzionalmente violati dai magistrati onorari, perché siamo quella categoria che lavoriamo senza alcuna tutela, senza alcun diritto alla salute, senza alcuna tutela pensionistica e lavoriamo da anni, alcuni di noi anche da oltre 20 anni, senza essere riconosciuti dallo Stato e senza che la politica si voglia far carico di riformare la legge Orlando che ci ha penalizzati in maniera veramente indicibile. L'Italia in questo momento non riconosce quello che è l'impegno dei giudici e soprattutto l'attività che i giudici puntualmente mettono in campo? Certo, parlo ovviamente della magistratura onoraria e dei giudici onorari di tribunale soprattutto, perché siamo quelli peggio pagati, tra virgolette, in quanto noi emettiamo sentenze, diciamo provvedimenti, ma veniamo pagati con una misera indennità di udienza di 98 euro l'orde ad udienza, a differenza anche delle altre nostre categorie di giudici di pace e dei vice procuratori onorari. Ma in generale è tutta la magistratura onoraria che oggi viene bistrattata e che questo governo, come tutti i precedenti, non vuole rendersene conto e non vuole prenderne atto e apportare gli opportuni provvedimenti. Chiaramente lei si riferisce alla magistratura onoraria, è una battaglia che si porta avanti da tanto tempo. Sì, diciamo che in questo momento molto particolare, in cui anche noi stiamo lavorando senza alcuna tutela, perché non siamo garantiti da niente e da nessuno, questo governo non ci riconosce tutto l'impegno che noi abbiamo sempre profuso nello svolgere la nostra attività con grande abnegazione e anche con grande professionalità.